Quella del pensionamento era solo una cazzata! Affanculo quella merda! Ho appena finito di aiutare il mio amico a trovare sua moglie. Gesù, che mezza sega. Graves vuole che ti aiuti a inchiodare quei bastardi come ai vecchi te, Picasso! Non vedo l'ora di fotterli nel culo! Duke, c'è qui la tua armatura verde pronta all'azione! Le armature sono per le fighette. Beh, ok. Forse preferisci un'arma?